Sì, grazie, grazie Luca. Nel gelo del Dei Marsi, potremmo dire così, in compagnia di Federico Giampaolo, una vittoria che però ha riscaldato il cuore dei tifosi, quella ottenuta ieri a Castelfidardo, 3-0 per Rintorio. Classica vittoria che vale doppio, no? Sì, anche perché poi venivamo da una sconfitta roccambolesca con il Monte Giorgio in casa, per cui la squadra ha avuto una grande reazione, era una partita difficile perché Castelfidardo, non dico che si giocava tutto in quella partita, però giocare lì è sempre difficile, su un campo fangoso, siamo riusciti a fare una grande prestazione, una grande vittoria soprattutto per il morale, perché domenica avevo visto i ragazzi che erano un po' giù di morale, però gli ho sempre detto che mancano ancora tantissime partite, sono 17 punti, sono 51 punti, una sconfitta in questo cammino ci può stare e loro hanno fatto un'ottima prova riscattando quella sconfitta che non ci ha fatto stare tranquilli, invece c'è stata un'ottima reazione e bisogna continuare così. Federico, è stato un campionato complicato, sfortunato anche all'inizio se vogliamo, perché avete giocato tante buone partite, però le vittorie non arrivavano, addirittura soltanto una nelle prime 11 gare di campionato con sei sconfitte, poi il cambio di proprietà, c'è stato un autentico restyling nel mercato invernale, squadra rifatta ex novo, adesso praticamente la squadra è totalmente cambiata. Sì, è successo un po' di tutto quest'anno, le aspettative effettivamente erano diverse, purtroppo come hai detto tu la squadra giocava però non riusciva a concretizzare, ci siamo ritrovati anche con i tre punti di impanizzazione che secondo me sono stati negativi nel percorso del campionato. Ce l'hanno inciso anche un po' sulla psiche, no? Sì, perché poi incontrammo la prima col Cesena e qui in casa facciamo un'ottima partita, perdemmo il 91esimo a vedere quei meno tre, un po' ti condiziona. Poi c'è stato il cambio di società, praticamente quasi tutti i giocatori sono andati via e con la nuova proprietà abbiamo rimesso in piedi una squadra ex novo e adesso con calma, con fiducia stiamo piano piano rimettendo un po' i tasselli al punto giusto. Le prossime quattro partite tre volte al De Marsi, che può essere un fattore, tra l'altro ci sarà il derby importantissimo con Giulianova domenica prossima, Giulianova che rischia di essere risucchiato nella zona play-out, non vince da sette partite due punti nelle ultime sei, dal 2 dicembre vittoria esterna sul campo della Vastese, poi ci sarà il derby di Notaresco, poi però arriverà qui l'Agnonese e la settimana successiva il Matelica. Due confronti interni, però insomma sono due sconti diretti, quelli con Giulianova e appunto con l'Agnonese da non fallire. Sì, il mese di gennaio potrebbe essere, diciamo così, tra virgolette a nostro favore, perché abbiamo tre partite in casa, una fuori, domenica ci aspetta un derby con il Giulianova che effettivamente sta incontrando un po' di difficoltà, però bisogna dire che ha fatto anche un ottimo girone di andata. Ecco perché dicevo il campionato è lungo, non bisogna mai abbassare la guardia, poi ci abbiamo Notaresco, le due partite in casa. Se riusciamo a raccimolare più punti possibili ci potremmo anche togliere da questa situazione, diciamo così, imbarazzante dei play-out, ma dipende solo e esclusivamente da noi. È una squadra giovane, è una squadra che ha voglia, abbiamo preso dei giocatori, secondo me, idoni per il nostro tipo di gioco. Funzionali, eh? Sì, esatto. Sono contento che domenica i nostri tre attaccanti sono andati in gol, che è fondamentale perché... Ricordiamo Bruni, Padovani e Samb. Esatto, esatto. Manari è anche lo stesso, ha avuto problemi, non ha potuto giocare, però diciamo che la squadra, essendo giovane, deve dare entusiasmo, perché ha anche qualità, sapendo appunto che questo campionato effettivamente non è facile, perché ci sono tante squadre organizzate e poi sai benissimo che nel giorno di ritorno le squadre che sono sotto fanno sempre più punti rispetto al girone di andata. Sta facendo un'ottima carriera Federico Giampaolo, non è piaggeria, lo dimostrano i risultati, l'anno scorso tra l'altro terzo posto, semifinale play-off persa proprio al De Marsi contro il Pineto, dopo una partita incredibile, con addirittura cinque legni, ricordo, due traverse, cinque legni in totale, però tutti i tifosi, prima di lasciarci e di restituire la linea al nostro Luca Pompei, ricordano ancora, benissimo, il Federico Giampaolo, giocatore estroso, uno dei calciatori che hanno vergato le pagine più belle della storia del Delfino, quelle scorribande, quelle serpentine pazzesche, mi riferisco alla trasferta di Salerno e soprattutto al gol col Palermo in casa nel 96-97. Sì. Ci richiedono spesso le immagini i tifosi, quindi... Sì, sì, ma io Pescara nella mia lunga carriera sono stato 7-8 anni, come sai benissimo, è dove penso sia stati gli anni migliori, perché avevamo una squadra buona, giocavamo bene, l'unico rammarico che ho sempre detto è che non siamo mai riusciti a vincere un campionato, perché lì può darsi che ci può essere una svolta in tutti i sensi ed è un peccato, però dei ricordi bellissimi perché essendo anche abruzzese è normale che tutto diventa molto più bello, tutto diventa molto più entusiasmante. Noi ringraziamo Federico Giampaolo, allenatore dell'Avezzano, in bocca al lupo per la partita di domenica. Avezzano-Giulianova, l'altro derby in programma, si giocherà al Valle Anzuca di fronte Francavilla e Vastese, è tutto dallo Stadio dei Marsi, la linea può tornare a te Luca.